In collaborazione con MSC Crociere Giver, un mondo di natura Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Omobone al consueto appuntamento settimale con S4 Il tuo show di sportador.tv, il canale televisivo Tutto dedicato al mondo dello sport, delle vacanze e del turismo Puntata questa ancora dedicata alle crociere Dopo aver parlato di montagna, neve e sport invernali Parliamo di un'altra vacanza che è molto in agio Una vacanza che sta andando molto ma molto bene 34 milioni di crociere nel mondo che fanno le vacanze a bordo delle navi Ben 14 milioni sono gli italiani Scusate, sono i turisti stranieri che vengono in Italia Ma sono milioni gli italiani che vanno in crociera Questa vacanza che sta veramente piacendo molto Sono tante le città che si sono adeguate Edificando i propri porti, creando dei terminal crociere Creando appunto tutto un sistema Appunto tutto dedicato a questo tipo di turismo Che in Italia fa 15 miliardi di giro d'affari Dà lavoro a 125 mila persone Insomma un mondo che porta tanti soldi Perché ogni crocerista, pensate, porta almeno 100 euro a testa Minimo di spesa Quindi moltiplicate per 14 milioni E i soldi che portano, che arrivano alla nostra Italia Sono veramente tanti Quindi puntata dedicata a questo mondo Con il sindaco di La Spezia Pierluigi Perracchini Grazie sindaco per aver accettato il nostro invito La Spezia, città nata nel Medioevo Ma poi ce lo racconta meglio il sindaco Dimentata città militare, porta commerciale Ora è una delle città più importanti per le crociere E' ritornato Fabio Candiani, direttore vendita di MSC Crociere Una delle compagnie più importanti al mondo per le crociere Grazie Fabio E poi Andrea Carraro di Giver Viagge Crociere 75 anni di storia Uno dei tour operator più antichi d'Italia Leader nel mondo delle crociere La Spezia, sindaco nel Medioevo Da piccolo borgo di pirati Golfo più bello al mondo Definito così da Napoleone Bonaparte Golfo dei Poeti Grazie a Byron Shelley Una città nata dai Savoia Che l'hanno fatta come base militare Per la Marina Militare Porto commerciale negli anni 60-70 Ora in pochi anni E' una delle città più importanti Dal punto di vista del turismo Giusto? Assolutamente sì Basti pensare che solo nel 2023 Sono arrivati i 730 mila croceristi La maggior parte dei quali si ferma in città Oltre ad andare a visitare le Cinque Terre Vedere la nostra provincia L'Erici, Porto Venere Ma un'offerta storica importante Perché abbiamo recuperato una parte Delle fortificazioni Che durante il fine Ottocento Sono state costruite per difendere Questo golfo bellissimo Che è di 5 km di profondità Dove sostanzialmente ci sono insediamenti Pre-romanici, romanici E poi dopo l'insediamento Quindi dell'arsenale militare L'arsenale militare che è stato costruito Nel 1861 E che ha cambiato il destino della città La Spezia nel metà ottocento Era conosciuta dai reali di tutta Europa Per il Grand Tour Venivano alla Spezia Venezia, Firenze e Roma E l'astravolgimento Della costruzione dell'arsenale militare Da parte di Cavour Ha cambiato Innanzitutto è stata la prima città Dove si è cominciato a parlare italiano Prima gli italiani parlavano in dialetto E per comunicare Invece tra loro Perché sono venuti per realizzare Questa grande costruzione 120 ettari Da tutta Italia Ma anche dalla Francia Hanno utilizzato l'italiano E da lì è nata una storia nuova Una storia bellissima Che si è intrecciata Con il futurismo Con Dommaso Marinetti Quindi con le nuove visioni del futuro E il grande boom Dopo la prima guerra mondiale Concluso diciamo così Negli anni 60 Ora invece sta vivendo la nuova realtà Siamo diventati leader mondiali della nautica Colmiglio Blu Grandi costruttori mega yacht Sono iniziati i lavori proprio in questi giorni Per costruire la stazione croceristica La stazione marittima croceristica E non solo Il porto commerciale Il porto militare E il turismo Circa un milione di notti Passate alla Spezia Musei stupendi come il Museo LIA È un museo che da giotto Fino a metà ottocento Ha i capolavori più importanti Della nostra storia Da visitare Museo d'arte moderna Alcame Con Fondazione Cari Spezia Un museo dove sono bellissime opere Da fontana Ha tantissimi altri Frutto di donazioni Alla città E poi il Museo Tecnico Navale Che è dalla Marina Militare Che proprio in questi giorni Sarà assegnato ai privati Per essere rilanciato Lì ci sono state le invenzioni Più importanti Durante la prima e prima Della prima guerra mondiale Degli ufficiali ingegneri Della Marina Militare Ad esempio Lo scafandro dei palombari Ad esempio La camera perbarica Ma ci sono anche Tutti gli strumenti di lavoro Di Guilamo Marconi Perché proprio nel Golfo della Spezia Ha fatto tutte le prove Di comunicazione Le prime comunicazioni senza fili Quindi una città Che ha una grande storia Grande innovazione Grande tecnologia Pronta ad accettare la sfida Che anche il mondo Delle crociere Ci pone davanti Quindi una città Molto più bella Molto più sicura Molto più pulita A disposizione di tutti i turisti Ecco Lo possiamo dire Bravissima la nostra regia Che ci fa vedere questo In pochi anni La prima nave da crociere È arrivata A metà Io ho visto il MSC Nel 2014 Arrivare alla Spezia Nel giro di pochi anni La Spezia Ha quasi 700.000 croceristi Dopo Genova La settimana Da parte di Genova Era il numero uno Ma le Gemelle Savone E la Spezia Sono numeri importanti Quindi Lo possiamo dire Ed è la prima città Che ha le banchine Elettrificate Giusto? Il progetto esecutivo È stato definito Proprio in questi giorni E ora Entro due anni Saranno elettrificate Le banchine Quindi Diciamo Siamo all'avanguardia Anche su questo tema È chiaro Che è un lavoro Che ci impegnerà Nel prossimo mese Insieme all'autorità portuale Che è competente in materia E poi soprattutto C'è Fincantieri Questa è una immagine Che è uno dei più colossi Nel mondo Delle navi da crociera E delle navi in generale Pensate che ci sono In portafoglio 31 navi Da costruire Di qua A qualche anno Per un numero Certi Portafogli Di 14,8 miliardi di euro Leonardo Era la vecchia Fincantieri Sostenibilità Non solo La scorsa settimana Dottor Candiani Ha parlato Della sostenibilità Dottor Candiani Il direttore Vendite di MSC Crociera Una compagnia Che non ha bisogno Di presentazioni Una compagnia Che è leader Nel mondo Dello shipping E del cargo 700 navi Con la livrea MSC Mediterranea Shipping Company Che portano Tutti i prodotti Che noi usiamo Dall'estremo oriente E non solo Alla nostra Europa Nel giro di 20 anni 22 navi E non solo Una delle compagnie Leader Nel mondo Delle crociere E della navigazione In generale Il tutto è partito Da un'idea Del grande Comandante Gianluigi Apponte Con Mediterranea Shipping Company Nata nel 1970 E poi Ha rilevato Le navi Della Chille Laure Della Festival Crociere Navi antiche Poi tutte nuove Una nave all'anno Giusto? Velocissimo Ho raccontato La storia di MSC Assolutamente Corretto Corretto La storia è questa Nel 2017 È cominciato L'ulteriore piano industriale Oggi MSC Ha 22 navi Sono già pronti Gli ordini Per ulteriori tre navi Che arriveranno A 25 Le navi Entro il 2027 Con un ulteriore Poi 26esima In opzione E soprattutto Altre sei navi Di cui una Già in mare Già navigante Di Explora Journeys La seconda In arrivo E altre quattro E queste invece Interamente costruite Da fincantieri Visto quanto si stava dicendo Anche poco fa È anche corretto dirlo Mi fa piacere essere qua Col sindaco di La Spezia La Spezia per noi È una meta Che dimostra Il nostro sviluppo Abbiamo cominciato Naturalmente Con quelle che erano Le crociere estive Ma oggi La Spezia la tocchiamo Tutto l'anno Quindi inverno Ed estate Quindi un'offerta Che il sindaco Ha spiegato molto bene Quindi non posso Aggiungere altro A quanto detto prima Un'offerta Che chiaramente Accontenta i nostri ospiti Che arrivano Ricordo da tutto il mondo Da tutta Italia Ma anche da tutto il mondo Sia per l'estate Sia per l'estate Che anche l'inverno Parlavamo prima Dei numeri Del passaggio Del porto di Spezia Per quanto riguarda Il MSC Sono 216 mila Quindi siamo Una bella fetta Degli ospiti Di Spezia Durante l'anno E con addirittura 51 toccate Quindi 51 volte Siamo giunti a Spezia E questo chiaramente Dà anche riscontro A quelle che sono Le politiche A quello che è Lo sviluppo Del territorio E quindi Di quanto venga apprezzato Anche dai nostri studi Fabio Tu hai parlato Di 216 mila Di la Spezia Ma se sono 14 milioni I croceristi Che arrivano in Italia Vuol dire che questa Fetta di croceristi È divisa in tutta Italia Sono 60 i porti Che ospitano Una via crociera In Italia Per quanto si Cosa vuol dire Un crocerista Perché tutti Poi le navi Quanto lasciano Innanzitutto Diciamo che per MSC Il Mediterraneo Significa 4,2 milioni Di persone Movimentate Nei porti italiani Nei porti italiani Che sono Nei 14 porti italiani Quindi con le nostre 16 navi Che in questo momento Vengono toccate Considera che in Italia Il segmento delle crociere Vale 15 miliardi Da lavoro Per 125 mila persone E questa è solo La parte Indotto diretto Naturalmente Non parliamo Di tutta quella parte Che può essere La cantieristica Le costruzioni Di cui abbiamo parlato prima Di fincantieri Piuttosto che anche Tutta la produzione Che vengono visitati Perché questi 14 milioni Di turisti Girano Comprano Lasciano soldi La merenda La bibita Il caffè Il minimo Si calcola che mediamente Almeno 100 euro Per singolo passeggero Per singolo ospite Quindi i calcoli Si fanno presto Per quanto riguarda La ricaduta In termini di territorio E poi non parliamo Diciamo che quando parliamo Anche di stranieri Vuol dire che giungono E molte volte Fanno anche del pre Del post cruise Quindi si fermano Nelle località Molte volte la crociera Agevola la conoscenza Di un territorio E poi ci si torna anche Ma spesso e volentieri Grazie chiaramente Anche alle infrastrutture E quindi alla possibilità Di raggiungere Anche via volo Chiaramente con Aeroporti vicini C'è anche la possibilità Di fare del pre Post cruise E quindi spesso e volentieri La crociera È una parte Di una vacanza più ampia Che viene spesa nel territorio 4 milioni 200 mila crociaristi Sono tanti Che movimentate Sono tanti E figlio E non bastano mai Ce ne vogliono di più Giusto? Beh ce ne vogliono di più Più che altro Perché è un segmento In grande crescita Ci si crede Nel motivo per cui Si sta investendo ulteriormente All'interno del turismo mondiale La crociera È ancora Una parte C'è ancora una parte Molto inesplorata Ci sono Chiaramente Ci sta molto Rivolgendo a un pubblico Eterogeneo Oggi anche a un pubblico Molto giovanile Ricordo che gli italiani Sono i crociaristi Più giovani del mondo Con una media Di 42 anni Le nuove navi E anche le destinazioni nuove Hanno aiutato Chiaramente Anche lo sviluppo Di questo tipo di cliente Vedasi Non so La nostra ultima nave La World Europa In cui ho visto prima Scorrere qualche immagine Del varo di Doha La nostra nuova nave Chiaramente Per il pubblico giovanile Ha sicuramente Perché il divertimento a bordo È bellissimo Non è tanto È tantissimo Teatro Il casino Piscine 6-7 piscine Spa Non solo Palestra Shopping Spettacoli Musica dal vivo Intrattenimento Anche a livello Anche a livello Nuove tecnologie Quindi anche sul lato virtuale E poi naturalmente Tante possibilità Anche dal punto di vista Sia gastronomico Che dal punto di vista Enologico Piuttosto che anche Produciamo addirittura La birra A bordo di World Europa Sì sì Abbiamo fatto un servizio È vero Perché vi ricordo che Produciamo mondo crociera Da 19 anni Trasmissione televisiva Che parla appunto Di vacanze Di crociere E parla anche Di crociere fluviani Dottor Carraro Giusto Giver Uno dei Tuor operetto Più storici D'Italia Nato nel 1949 Da 75 anni Che vende crociere Ma vende soprattutto Vacanze Stare bene Avete l'Atlantis Che è queste crociere Nel Sud America Terra del Fort Con Patagonia E stretto di Magellano Sino a Capo Orno Avete l'Urti Grute Ma siete forti Nelle crociere fluviali Giusto? Sì La crociera fluviale È stato L'ultimo grande segmento Che mancava a Giver Quando All'inizio degli anni 2000 Abbiamo dovuto Reinventare La nostra presenza Nel mercato crocieristico Giver Si è orientata Sulla crociera fluviale Che per noi È un prodotto Assolutamente inedito E abbiamo deciso Di convertire La nostra esperienza Di All'epoca 50 anni Nel mondo Del charter Di crociere Marittime Applicarlo Al sistema Delle crociere fluviali Che sono Un ambiente Molto più raccolto Parliamo di navi Tra i 100 E i 200 Passeggeri Però abbiamo Riportato lì La formula Vincente di Giver La formula Vincente di Giver È sempre stata Quella di avere La direzione di crociera Lo staff Turistico Italiano E quindi Garantire Al pubblico Italiano Soprattutto Nell'ambito Come quello Della crociera Che la giornata È scandita Da orari Molto A volte Stringenti Per fare Quella o quell'altra Escursione Pasti Eccetera Creare una dimensione Che fosse culturalmente Omogenea E quindi Un servizio Assolutamente Italiano Sia dal punto di vista Della ristorazione Che degli orari E anche Delle escursioni Per quanto riguarda Questa stagione Noi per esempio Abbiamo Dal 14 di luglio Diverse crociere Sul Reno Tra l'Olanda Il Belgio Le Fiandre La Germania La Francia La Svizzera E Abbiamo Già Inaugurato Inaugureremo Questa primavera Ma sono già esaurite Le crociere floreali Per vedere La frittura dei tulipani Vicino ad Amsterdam Ad Harlem Ma durante Tutta l'estate Appunto avremo Questo programma Con crociere Che consentono Di scoprire Una delle destinazioni Diciamo Meno battute Dal punto di vista Il turismo Di massa Ma Non meno affascinanti Non per niente Facendo Soprattutto l'Olanda E le Fiandre Si fa Si ha un contatto Molto forte Con l'arte La cultura Prima si parlava Di birra La birra belga È considerata La birra migliore del mondo Quindi anche Una crocita giro Può essere anche Un'occasione Per gustare Un buon boccale Di birra Belle queste immagini Di Amsterdam Sui canali olandesi Bravo il nostro regista Adesso prego la regia Di far andare La seconda clip Di La Spezza Perché Abbiamo detto Della storia Di La Spezza Il sindaco Ce l'ha raccontata Molto bene Da borgo di pirati Poi scoperta dai poeti Napoleoni Savoia Città militare Porto commerciale Ora croceristico Però a La Spezza C'è una grande storia Della nautica Giusto? Quindi prego la regia Di farvi delle immagini Non devo vedere Perché voglio raccontare Di una storia Ligure Allora Del record Della velocità Giusto? Del Rex 1933 Con il comandante Di Lerici Grande Tarabotto Chi va a Lerici Nei vicoli di Lerici C'è un insegna Che ricorda Il mitico Comandante Tarabotto Che fece La traversata In 4 giorni 13 ore 58 minuti Ma nel 1992 A 500 anni Di distanza La scoperta Una nave Costruita Dalla Fincantieri Con il grande Comandante Mancini Con Cesare Fiorio Fecero il destriero Giusto? Assolutamente sì Il record Ancora Imbattuto Imbattuto Una grande Volontà Di innovazione Tecnologica E di battere Il record Per dimostrare Che l'eccellenza L'eccellenza italiana Era ancora una volta E ancora una volta Quella che fa la differenza Come si può vedere Una grande tradizione Costruzione di navi Di sottomarini Poi dei grandi Mega yacht Siamo diventati Leader mondiali Con il milio blu I grandi marchi Ma non solo Anche una grande Tradizione Enogastronomica Avete visto Prima Le coltivazioni Di mitri Cioè di muscoli E non solo Abbiamo fatto La prima Oysterfest Nazionale La festa Dell'ostrica È un prodotto Anche questo Tipico Che quest'anno Si ripeterà A maggio Insieme a altre Grandi manifestazioni Da dei portibus Dove ci sarà L'eccellenza europea Della portualità Abbiamo altre manifestazioni Come la festa Dell'outdoor Per valorizzare La storia del mare Il palio del golfo Le 13 borgate marinare Che si sfideranno Anche quest'anno Per la 99esima volta L'anno prossimo Sarà la centesima volta Un secolo Di competizioni Nate però Proprio tra i lavoratori Dei coltivatori Dei mitili Quindi Storie importanti Che fanno Di questo golfo E di questa città Un unicum A livello internazionale Grazie sindaco E tanto lo vorrei Correggere Almeno tradurre Perché lui ha parlato Di mitili Che è un termine nazionale Ha parlato di muscoli Che è un termine spezzino Che solo io e lui E qualche amico spezzino Capisce Perché per tutti I muscoli In Italia Si chiamano cozze Sindaco Devo fare questa traduzione Io non posso dire cozze Ma d'altrò Gli sono di la spezza Anche io Io so Sono i muscoli Muscoli ripieni E so cosa vuol dire La cultura dei muscoli Però l'abbiamo tradotto Per gli amici Non andiamo in tutta Europa Quindi purtroppo I muscoli Volevi dire qualche cosa Tu sei genovese Anche tu Anche Gio Si dice muscoli In tutto il mondo Si dice muscoli Solo in Italia Si dice cozze Ma in Francia Masse Mus Va bene Poi volevo dire anche Di un altro record Del destriero Che batte il record Del Rex 1933 Il Rex Il 1992 Mancini Con fiori Tutti Gli uomini Del fincantiere Di un'ora e cinque minuti A quasi 30 nodi di media Attraversare 3100 miglia Dell'oceano Atlantico Quindi oltre 6.000 chilometri A 30 all'ora Per 4 giorni E 12 ore Impressionante È impressionante Tanta storia Questo giusto per dire La cultura della nautica italiana E non solo Quindi è tutto Medi in Ligure Medi in La Spezia Attualmente si Basti pensare Baglietto Basti pensare San Lorenzo Basti pensare Italian Sea Group Basti pensare Perininavi Riva Ferretti Quindi Fincantieri Una storia incredibile E adesso poi ci sarà anche l'Enea Ne parliamo dopo Sindaco Perché voglio parlare Di crociere Che è un tipo di vacanza L'abbiamo scoperta Un po' insieme Io 20 anni fa ho detto Per me le crociere andranno Stavano esaurendo La loro linfa vitale Un tipo di vacanza Che era quella dei villaggi Con dei grossi nomi Che andavano esaurendo Ora c'è vero e proprio boom Delle crociere Fabio Tu sei direttore vendita Della compagnia numero 1 In Italia E in Europa Quindi Hai grandi soddisfazioni Grandissime soddisfazioni Il 2023 da record Il 2024 Sta andando anche meglio Quindi siamo contenti Come dicevamo prima Abbiamo 16 navi Nel nostro Mediterraneo Tra le 16 navi E' anche importante dire Che ben 14 di queste navi Hanno un segmento Che si chiama Lo yacht club Che è una nave nella nave Si è parlato prima Anche di cantieristica Della costruzione di navi Anche un pochino Più piccoline E noi abbiamo in costruzione Naturalmente Le navi Di Explora Journeys Per quanto riguarda Sono navi Con 800-850 persone Quindi I costruiti in questo momento Con fin cantieri E sono 6 navi Ma nello stesso tempo All'interno delle nostre navi Di MSC Cruises Abbiamo il segmento Yacht Club Che sono una novantina Di suite Quindi al massimo Tra le 180 e le 200 persone Che hanno dei servizi dedicati E noi diciamo Che è la nave Nella nave Che è posizionata a prua Giusto Bella questa inquadratura Allora Vediamo la nave arrivare Lo yacht club È nella parte frontale Giusto Con le cabine Che vediamo davanti Esatto Nella parte frontale Sono 90 suite Quindi in cui si può godere Naturalmente Una metratura differente Naturalmente Le cabine Cabine più importanti Ma nello stesso tempo Anche dei balconi Dei balconi Che in alcuni casi Hanno anche la jacuzzi C'è una parte di solarium Dedicata Esclusiva Solo per gli ospiti Dello yacht club E quindi con la jacuzzi Con la piscina Con la direttora Un mini buffet Dedicato solo a loro Una lounge dedicata Un ristorante esclusivo Solo per loro E poi naturalmente Si può godersi Di tutto il resto della nave Però ti dà una tranquillità E anche Devo dire Lo chiamiamo Un lusso accessibile Perché non porta comunque A dei prezzi Completamente O a dei costi Completamente differenti Da quello che è Normalmente Diciamo Il costo della nave stessa Ma ti dà un servizio importante Basti dire Che c'è il maggiordomo A 24 ore Addirittura E poi Una divagazione Tutte le navi Le abbiamo viste Sono bianche E Euribia Che è una La penultima nata Invece Tutta questa livrea Vedete Normalmente sono bianche L'altra invece Tutta questa livrea Che ricorda Esatto Save the sea Quindi un messaggio Di sostenibilità È stata varata Lo scorso anno È stata la nave Che ha fatto il primo viaggio Emissioni zero Quindi con carburante bio GNL Normalmente questa nave Va a GNL Stiamo spingendo Chiaramente Anche i grandi produttori A produrre su larga scala Questi carburanti bio Che ci permetterebbero Di arrivare molto prima All'emissione zero Parlavamo prima Che col sindaco Dell'elettrificazione Dei porti Tutte le nostre navi Sono pronte E quindi già utilizzano Per dire in nord Europa A Kier Southampton Ma anche Alla stessa Malta Abbiamo Attacchiamo Fisicamente La nave alla spina Fammi fare la traduzione Ho tradotto Il termine muscoli Per il sindaco In Italia Si chiamano cozze Hai parlato Di GNL Il gas naturalico È fatto Giusto? Esattamente È un tipo Oggi è il carburante È il carburante Meno inquinante E fai conto Che con questo Con l'utilizzo Di questo carburante Abbiamo abbattuto Del 40% Le emissioni Che avevamo Solo la decada precedente Quindi dal 2008 E questo è l'unico Carburante prodotto Su larga scala Che ti sta dando Perché l'obiettivo È arrivare A emissioni zero Nel 2050 Emissioni zero Nel 2050 Noi abbiamo l'obiettivo Come azienda Di abbattere Tra il 40 e il 50% Entro il 2030 Tutta la flotta Pensiamo di poterlo fare Già un paio d'anni prima Allora ok Grazie a Fabio Candiani Ora c'è la pubblicità Poi do la linea All'amico Andrea Per le crociere fluviali Non toccate il telecomando Perché come sentite Come potete Diciamo Godervi È una bella puntata Tutta dedicata al mare La nautica A tutte le eccellenze Della nostra Italia È la cosa più bella Che abbiamo Il nostro mare La nostra centralità Al centro del Mediterraneo E di questo Vogliamo parlare E approfondire Nella seconda parte Di S4 Il talk show Di sportador.tv Il canale televisivo Che parla di sport Vacanze e turismo A tra poco Non toccate il telecomando In collaborazione con MSC Crociere Giver Un mondo di natura GNV.it